Lasciamo perdere, lasciamo perdere, visto che oggi è il giorno di Real Madrid-Milan, lasciamo perdere il fattore stadio, che tanto quante volte abbiamo parlato della questione stadio-Milan e dell'ennesima imbarazzante presa in giro che questa società ha dato a noi tifosi con l'illusione. Puff, fumo negli occhi che saremmo andati da sole a San Donato, ma vedo che alla nostra società sta bene anche andare a San Siro assieme all'Inter, ma ripeto, vi dico di più, se dovessimo anche andare a San Donato lo facciamo assieme all'Inter perché l'unione fa la forza in dove riusciamo probabilmente ad avere lo stadio di proprietà, sempre che in realtà non andiamo a comprare San Siro, ma non ne voglio parlare, non ne voglio parlare perché tanto è imbarazzante questa situazione dell'ennesima, ennesima, ennesima perculata che questa società ci sta dando, ma io non sono sorpreso. Quello che invece dobbiamo parlare è questa situazione che si respira nell'aria, un mix tra indifferenza e rassegnazione, che è la cosa più grave, ancora più grave di essere stati presi in giro da questa società, è una cosa che un presidente serio, se percepisce, se respira, dovrebbe vergognarsi. Di fronte a una partita come questa, una partita importante di Champions, dove vai a sfidare la storia di questa Champions, che è il Real Madrid, perché è quella che ne ha vinte di più, dove ci sono state sfide reggendarie tra noi e loro, il tifoso del Milan, che accompagna comunque la squadra, 3.800 persone saranno a Madrid, ma questa sfida viene accompagnata da indifferenza, mix, rassegnazione, perché lo percepisco, lo leggo nei commenti. Indifferenza perché quando tu sai che difficilmente puoi competere con questi squadroni, perdi l'entusiasmo. Cioè, ti dici, vabbè, giochiamo con il Real Madrid, loro sono fortissimi. Mentre quando lo scontro è alla pari, quando sai che andrai a affrontare una battaglia, non c'è indifferenza, ma c'è tanto entusiasmo, c'è la voglia di vedere questa partita, arrivi, io vi dico, vi dico, nei tempi d'oro, quando il Milan è una squadra, io già mi svegliavo la mattina e pensavo a quella partita. Oggi, se non dovevo fare il video, ero tranquillo, non ci stavo manco pensando che stasera abbiamo la partita. Poi è ovvio, appena fischia l'arbitro ti viene la pelle d'oca e ti vivi la partita con emozioni, con la speranza, sapete? La speranza è quel pizzico di follia che ti fa dire, oh, magari facciamo il miracolo. Ma intanto però, e non sono l'unico, ripeto, lo percepisco, c'è questa indifferenza di una partita che pare scontata, indifferenza, rassegnazione, pessimismo. Anche questo io dico, Cardinale, tu hai creato pessimismo, non solo tu, anche le gestioni precedenti, però adesso ci sei tu, colui che parla, colui che dice che vincere non oggi, ma anche nel futuro, vuoi tornare a vincere in Europa. Cardinale, ormai non funzionano più le tue chiacchiere, perché i tifosi ti hanno capito. E quindi arriva il pessimismo di chi pensa che stasera prendiamo una rumba pazzesca, che stasera ci umiliano, ci asfaltano, ci distruggono. Poi c'è quello un po' meno pessimista che dice che ce la possiamo giocare, ma non c'è quella fame del tifoso che dice no, stasera andiamo a Madrid e possiamo vincere. Poi magari sculi vinci e siamo tutti qua a far festa. Io vi sto parlando del pre-match. E pre-match queste sono le sensazioni, le sensazioni reali. E quando vedi una tifoseria con queste sensazioni, tu come presidente hai fallito, tu come dirigente hai fallito. E c'erano tutti i presupposti di poter creare un po' di più di entusiasmo in questa tifoseria se come dirigenti avreste lavorato bene. E parlo da dopo la vittoria dello Scudetto, perché lì c'era una base forte di una squadra che aveva carattere e giocava e vinceva. Bastava inserire pian pianino qualche campione. Invece voi avete distrutto. E distruggendo la squadra avete distrutto i nostri sogni, le nostre aspettative, le nostre speranze. Detto questo, ripeto, questo è il clima che si respira ora. Poi io sono convinto che anche il più pessimista, appena l'arbitro fischierà all'inizio della partita, spera in cuor suo di vedere un grande mina, spera di sbancare il Bernabeu. Però l'onestà intellettuale a oggi ti porta a dire c'è una grossa differenza. È vero, il Ramadir ha perso anche con Lille, quindi non sono invincibili. Anzi, ultimamente stanno avendo anche delle difficoltà. Io ho visto la pettinata che hanno preso col Barcellona in fase difensiva. Ovviamente se tu giochi con Bellingham, con Venitius, con Mabé, qualcosa lasci in fase difensiva. Qualcosa lasci per forza. E noi dovremo approfittare di queste cose. Oggi Milan scende ovviamente con una nuova invenzione del Mr. Fonseca, col Musa esterno destro al posto di Ciucu Eze. Va bene, probabilmente serve per aiutare Emerson che avrà la strizzarella. Anche noi abbiamo la strizzarella che dovrà marcare Venitius che scende giù da quel lato. Molta strizzarella perché Emerson non è stacima. Comunque Milan scende con Magic Mike tra i pali. Ternandez torna tomorrow in campo che deve essere più leader, che deve aiutare gli altri difensori. Devi essere più... È ormai da un po' che sei a Milano. È da un po' che vesti questa maglia. Dai, un po' di cazzimma. In coppia con Ciao, preferito a Pavlovich, io sono d'accordo. Emerson Royal, segno della croce, raga. Quando si dice Emerson, segno della croce, ovunque. Dove giocare Musa anche qua, raga. Segno della croce, evidente, perché Musa... Fofana e Reinders. L'unica coppia che abbiamo proponibile nel mondo del calcio. Questa è una coppia forte. Il resto, tutti i giri, anche lì segno della croce. Gioca Rafa, Rafa, ecco qua una cosa particolare, devo dirla Rafa. Dimostra a Fonzi che si sta sbagliando. E poi, riconquiste i tifosi. Io è quello che ti chiedo. I tifosi sono pronti ad esaltarsi per ogni tuo gol. Riconquiste i tifosi. Tu devi giocare, devi essere professionista. Tu prendi un sacco di soldi. Dai, mettiti in mostra, sii devastante. Poi te ne vuoi andare, ci porti i soldi giusti e te ne vai. Ma così non vali niente. Non ti vuole neanche il tuo cane nella cuccia se giochi così. Pulisic. E anche lì noi ci aggrappiamo, il grande Pulisic. E davanti Alvaro Morata. Alvaro, uno. Sei c'è uno. Se riesci a buttarlo in porta. Se siamo alla quarta di Champions, sei ancora a zero gol. Tu ti sbatti, sudi la maglia, me sta bene. Però tu sei l'attaccante e devi segnare. Uno, ce la fai a metterlo in porta, a gonfiarlo alla rete? Ce la fai? Raga, ditemi la vostra, ditemi come la pensate, cosa vi aspettate da stasera. Se sognate, siete pessimisti o indifferenti. Scrivete, commentate.